Sono in fase di ultimazione e verranno consegnate nei prossimi giorni le prime SAE per gli abitanti del centro storico di Camerino. Facciamo il punto sullo stato dei lavori con il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui. Ormai siamo giunti a poter consegnare 43 casette proprio qui nella zona di Cortine Ovest, consegna che avverrà nei prossimi giorni insieme ad altre 5 SAE che verranno consegnate nel quartiere di Vallicelle. Io continuo ad esprimere insoddisfazione di certo per i tempi di consegna perché dopo due anni non è ammissibile che ancora stiamo parlando di consegna di soluzioni abitative emergenziali. Ma la mia soddisfazione è grande quando penso che stavo facendo rientrare la mia popolazione al ridosso delle mura cittadine, al ridosso di quelli che erano i punti di interesse e soprattutto di quelli che saranno i punti di interesse e i servizi futuri, come le scuole, come il centro commerciale, come tutti quei luoghi che diventeranno luoghi di aggregazione. Abbiamo creato 12 aree SAE perché vogliamo anche riportare la nostra popolazione nelle frazioni. Per noi far vivere le frazioni, non aver consentito lo spopolamento di esse, è motivo di grande orgoglio. Si poteva fare meglio? Certo. Si poteva fare molto meglio perché probabilmente la gestione dell'emergenza, dove all'interno ritroviamo anche le SAE, doveva essere affrontate in altro modo. Ma questo è stato, queste le direttive ovviamente alle quali ci siamo dovute attenere e per cui con le direttive che abbiamo avuto oggi possiamo esprimere soltanto gioia e soddisfazione anche per la realizzazione di queste importanti soluzioni che consentiranno appunto il ritorno della nostra gente. Devo fare una precisazione. A febbraio scorso, a febbraio 2017, avevamo circa 6.900 persone in assistenza. A febbraio 2018 avevamo portato queste 6.900 persone che erano in assistenza ad essere 3.002 e i numeri dei nostri cittadini fuori da Camerino sono circa 1.339. Questo significa che con il rientro della parte di popolazione che andrà nelle SAE e se partirà velocemente, ormai reputo che sia ora anche passata, l'intervento di realizzazione di messa a posto delle case non gravemente lesionate, mi riferisco alla ricostruzione delle famose B, io potrei sostenere che il miracolo Camerino si sta realizzando e cioè quello di aver riportato e riacquistato e fatto riabbracciare l'intera comunità. Oltre a essere riusciti a non aver perduto nulla dei servizi che avevamo, l'unica cosa che non siamo riusciti a tenere in loco ma per ovvi motivi è appunto il carcere perché ovviamente i detenuti non potevano stare in container o in situazioni provvisorie. Per il resto dal giudice di pace all'agenzia delle entrate, all'avere i nostri figli in scuole è perfettamente a norma sismica e anche senza fare i doppi turni, sono stati evitati anche essi. I nostri commercianti, che ringrazio per il grande spirito di sacrificio che hanno dimostrato, comunque ci sono grazie a una struttura che è appunto il City Park, dei tendoni organizzati dal Comune dove negli ultimi giorni è intervenuta anche un'ordinanza della protezione civile a sostenere le spese economiche e di questo posso solo ringraziare. Ecco, questa comunità sicuramente fortemente distrutta, il centro in zona rossa, forse il più grande dell'intero cratere, 248 mila metri cubi di zona rossa, sta guardando ad un futuro con un grande credo perché ci sono i presupposti e i presupposti derivano dalla forza di questa gente che ha segnato spesso le ripartenze della nazione, mi riferisco al centro Italia e questa volta sta segnando di nuovo l'appartenenza territoriale, le radici importanti ben salde al terreno e naturalmente l'obbligo di riconsegnare ai nostri figli e quindi quello che i nostri padri ci hanno donato si sta attuando. È ovvio, la ricostruzione non è sicuramente cosa che potremmo vedere domani, ma sicuramente una volta ricostituito e, permettetemi il termine, puntellato il tessuto sociale affinché nessuno o comunque una parte molto limitata di questa popolazione sia diretta altrove, ma tutti abbiano scelto di rimanere qui, la certezza di esserci diventa sempre più prestante. Da qui però l'obbligo di intervenire in maniera concreta sulla rivisitazione del cratere, che sottolineo ancora una volta, mi dispiace spesso che i colleghi sindaci, alcuni colleghi, non vogliono proprio comprendere quello che io dico. Non dico assolutamente che qualche comune deve essere escluso dal cratere, torno a ridire sempre con più forza ed energia, perché tanti sono i motivi pratici che si toccano dietro alle mie parole, che ognuno deve avere ciò di cui ha bisogno. Non può essere generalizzata la normativa come è sino ad oggi, perché questo realmente consente un forte ostacolo ed un limite ad una ricostruzione veloce e sicura.